ti saluto con la pace del signore e che dio benedica immensamente la tua vita e anche attraverso questo strumento dove ovviamente andremo a parlare di un argomento che riguarda la fede la fede cristiana e nel farlo come anche avrai potuto notare dal titolo di questo video siamo insieme a un pastore il pastore con la quale questa sera avremo il piacere di condividere un messaggio è davide davide giambra pastore della chiesa di gela ora lui si presenterà a lui dopo però siamo qui perché desideriamo parlare di un argomento ora io farò una domanda al fratello davide e poi lui ci parlerà un po di quello che sia l'aspetto teorico di questo argomento sia anche l'aspetto pratico perché come tu già sai se segui questa rubrica non ci interessa sapere solamente la parte teorica perché quella la possiamo ascoltare dovunque a noi ci interessa entrare nel vivo quindi quando parliamo di un tema come lo viviamo quel tema in che modo lo pratichiamo perché noi sappiamo e poi mi fermo noi sappiamo che la fede non è solo teoria la fede pratica quindi noi possiamo leggere la bibbia possiamo conoscere tanto ma se non pratichiamo quello che ascoltiamo sarebbe una fede già come la definisce una fede morta inutile quindi noi vogliamo invece essere servitori fervente e zelanti e sempre pronti nell'opera del signore quindi ora mi concludo qui questa breve introduzione e voglio farti una domanda fratello davide allora questa sera parleremo di evangelizzazione di missione allora perché proprio questo tema cosa cosa ti tocca in un modo particolare come come vivi questo argomento nella tua vita ovviamente giornaliera ma anche come pastore ovviamente cosa vuoi dirci da parte del signore allora innanzitutto saluto tutti coloro che ci stanno ascoltando e vedendo sono molto contento e ringrazio il fratello andrea per l'invito sono il pastore davide giambra il signore mi da grazie di curare una chiesa a gela si chiama chiesa betel e ringraziamo il signore perché lui benedice questo popolo ci porta avanti e apprezzo tanto la domanda che fratello andrea mi ha fatto perché mi tocca in modo particolare perché sono due argomenti per i quali in qualche modo ho dedicato molta attenzione molto studio ma anche molta pratica perché come abbiamo sentito poco fa la nostra fede non è soltanto una fede teorica ma la nostra fede viene accompagnata anche dalle opere che noi cerchiamo di compiere in ubbidienza al mandato proprio di gesù cristo nel libro dell'evangelo di nel vangelo di marco al capitolo 16 verso 15 è scritto proprio dietro comandamento di gesù di andare per tutto il mondo e predicare il vangelo ad ogni creatura e questo è un comandamento che abbiamo cercato sempre di adempiere in ubbidienza a quello che il signore stesso ci ha ci ha insegnato perché persone che non conoscono il signore che hanno una conoscenza probabilmente teorica che hanno una parvenza di conoscenza noi siamo stati chiamati a raggiungere queste persone e predicare il sano vangelo predicare il vangelo che ci ha lasciato gesù cristo che noi solitamente chiamiamo il vangelo della libertà oppure lo potremmo chiamare anche il vangelo della sostituzione perché in pratica noi presentiamo gesù cristo come l'unico salvatore che è stato inviato dal padre per poter raggiungere e portare il regno di dio nel cuore dell'uomo noi non vogliamo mai mai dimenticare che l'unico sacrificio perfetto che poteva essere compiuto qui sulla terra perché gli uomini potessero essere salvati è stato proprio il sacrificio che gesù cristo ha compiuto sul duro legno della croce e mi sento particolarmente coinvolto in questo messaggio mi sento particolarmente presente in questo messaggio perché sin dall'inizio del della mia conversione poi del mio ministero abbiamo dato sempre un taglio abbiamo dato sempre importanza a questo aspetto dell'evangelizzazione il raggiungere le anime che oggi come ieri sono lontane dalla parola del signore e abbiamo sempre cercato di di portarci dietro persone che hanno sono state raggiunte dalla parola di dio e hanno creduto nella parola di dio è scritto che chiunque crede ed è battezzato è salvato ecco perché è importante che il nostro messaggio venga proposto perché altri possano ricevere che cosa la fede possono ricevere il messaggio della parola che produce fede e che porta l'uomo a credere nel signore credere non significa sapere che dio esiste tutti sanno che dio esiste alcuni lo chiamano con altro con altre definizioni tutti sanno che c'è una mano divina che c'è una potenza soprannaturale alcuni lo chiamano dio ok ma credere va un po oltre a quello che può essere la consapevolezza di sapere la consapevolezza di conoscere che c'è una forza potente credere significa fidarsi di dio affidare la propria vita nelle mani di dio ed è questo il messaggio attraverso il quale abbiamo raggiunto tante anime sin da quando ero più giovane abbiamo sentito sempre nel cuore io sono figlio di credenti mio padre è stato pastore per tanti per tanti anni in diversi posti e siamo stati sempre educati siamo stati sempre invogliati a poter andare non semplicemente nella chiesa ma il nostro lavoro principale è stato svolto all'esterno della chiesa e abbiamo avuto sempre questo desiderio di poter portare il vangelo attraverso la predicazione della parola attraverso la musica attraverso il canto abbiamo viaggiato in lungo e in largo per raggiungere le piazze della sicilia per poter portare il messaggio della salvezza perché questo è stato il nostro desiderio ci sono tanti esempi tante esperienze che noi abbiamo fatto non ci siamo mai fermati abbiamo sempre evangelizzato estate inverno con un gruppo di giovani della nostra comunità che ha sempre è stata sempre disponibile avevamo attrezzature per poter portare il vangelo a quelle anime che avevano tanto bisogno abbiamo visto anime cambiate trasformate dalla potenza del vangelo senza nessuna vergogna anche perché l'apostolo paolo parla molto chiaro che non bisogna mai vergognarsi di questo vangelo che ci ha fatto tanto bene io non mi vergogno del vangelo diceva l'apostolo io non mi vergogno del vangelo perché esso è potenza di dio per la salvezza di coloro che credono quindi tu che stai ascoltando tu che stai mi stai vedendo ti trovi davanti una persona che ha accettato gesù nella propria vita ha accettato questo vangelo il signor ha preso il sopravvento nella mia vita ho ubbidito la sua parola io ero figlio di credenti ma avevo bisogno di fare un'esperienza personale col signore non importa che tuo padre tua madre la tua famiglia siano convertite tu sei lontano da dio bisogna che adesso mentre mi ascolti tu cominci a riflettere sulla tua vita e cominci a lasciare operare lo spirito santo nella tua vita che ti convince di peccato e cominci a confessare i tuoi peccati perché non c'è perdono se non c'è confessione e non c'è perdono se non accetti gesù nel tuo cuore come personale salvatore abbiamo evangelizzato abbiamo fatto tanto lavoro per poter portare continuiamo e non si stanchiamo di lavorare per portare il vangelo con ogni mezzo e con ogni risorsa perché vogliamo che le anime che sono lontane da dio e che vivono nel peccato ricevano il messaggio della salvezza diceva un servo di dio che mi accontenterei stare davanti la porta dell'inferno piuttosto che stare in una chiesa dentro una chiesa a non fare niente per poter strappare quante più anime possibili dalle mani dell'avversario e questo è la nostra missione e a proposito di missione è qualcosa che ci riguarda molto da vicino adempiere alla missione è qualcosa di responsabile e perché sentiamo questo ardente desiderio nel nostro cuore di poter raggiungere senza limiti senza riserve perché chi ama dio e chi serve dio lo deve fare senza riserve e abbiamo speso abbiamo dato la nostra vita nelle mani del signore abbiamo impiegato il nostro tempo per onorare quello che è scritto nella parola di dio e perché altre anime possano venire alla salvezza prima che il signore ritorni perché gesù ritornerà ed è un argomento sul quale sarebbe bello soffermarsi perché il ritorno di gesù cristo è una realtà è una promessa è qualcosa che è stata lasciata come promessa da cristo gesù un giorno gesù mentre tornava al padre nelle ultime fasi della sua vita terreno e terrena ebbe a dire a coloro che lo stavano vedendo elevarsi verso il cielo gli uomini che erano lì che stavano in qualche modo assistendo a questa a questo a questa ascesa di gesù verso verso il cielo per tornare al trono di dio questi uomini che vedevano quelli che erano stupiti da quello che stavano assistendo dicevano questo stesso gesù che voi state vedendo elevarsi verso il cielo tornerà per prendere la sua chiesa cioè coloro che sono stati redendi cioè coloro che hanno accettato gesù nel proprio cuore ecco oggi è il giorno della salvezza e la nostra missione è quella di poter raggiungere quante più anime possibili per poterle strappare dal mondo per poterle strappare e poter insieme sciogliere i legami spezzare le catene dell'avversario e poter gustare la vera libertà che si ottiene in cristo gesù conoscerete la verità diceva il signore conoscerete la verità e la verità vi farà libri puoi ottenere la vita eterna e conoscerete la verità conoscerete la verità e conoscerete anche la vita eterna che cos'è la vita eterna la vita eterna non è nient'altro conoscere cristo è colui che lo ha mandato il nostro padre celeste che abita nei cieli ma che presente lì dove tu ti trovi in questo istante ti puoi rivolgere a lui questa è la nostra missione molto spesso noi pensiamo missione un posto lontano guarda che la tua missione inizia proprio da casa tua tu puoi cominciare a lavorare nella tua casa con la tua famiglia con i tuoi figli per questo il signore questa sera parla al tuo cuore e ti dice comincia intanto inizia tu intanto apri il tuo cuore a questa dolce parola perché mentre ascolti la parola di dio questa fede che cresce e mentre cresce tu cominci a gustare quello che è il messaggio della salvezza è così importante che tu che tu accetti Gesù nel tuo cuore questa parola nel tuo cuore ti lasci trasformare dalla potenza della parola ed è quello che in qualche modo in questi ultimi tempi stiamo adempiendo adesso abbiamo tanti strumenti per poterti raggiungere non sempre possiamo stare all'esterno di case non sempre possiamo stare nelle piazze quando ne abbiamo la possibilità diciamo sempre che ci troviamo più a nostro agio quando siamo in mezzo alla gente parlando di Gesù che in una chiesa ed è vero personalmente mi riconosco un una tendenza un desiderio quello di poter stare per le strade predicare il vangelo ad ogni creatura dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio unigenito perché chiunque crede lui non muoia ma abbia la vita eterna e questa vita eterna la puoi ottenere pure tu perché così importante ottenere la vita eterna avere la certezza che un giorno quando finiremo i nostri giorni qui sulla terra riapriremo i nostri occhi nel cielo e incontreremo coloro che ci hanno preceduto e incontreremo il signore lo vedremo a faccia a faccia come lui è e potremo adorarlo per tutta l'eternità le promesse del mondo le promesse della terra durano per un tempo quando gli uomini promettono sappiamo che le promesse difficilmente vengono mantenute ma c'è qualcuno questa sera che parla al tuo cuore questa è la mia missione questa sera c'è qualcuno che parla al tuo cuore ed è qualcuno che continua a promettere gioia e pace nel tuo cuore equilibrio e stabilità elementi che oggi mancano stiamo vivendo giorni di grande trepidazione non abbiamo più il controllo delle situazioni che succedono nel mondo 150 guerre vengono svolte attualmente in tutto il mondo e ancora l'uomo non ha capito che l'unico che può dare la vera pace si chiama gesù cristo il principe della pace e questo è una e questa è una verità che risiede nel mio cuore come nel cuore di tanti mie sorelle e miei fratelli che hanno accettato gesù nel proprio cuore e nella nella propria vita perché non ricevi gesù il principe della pace nella tua vita ti ricordi quando se sei hai dimestichezza con la parola di dio ti ricordi quando i discepoli erano radunati in quella stanza e avevano paura che i soldati romani potessero arrestarli da un momento all'altro avendo scoperto che erano discepoli del maestro che avevano da poco crocifisto ti ricordi erano impauriti ma gesù cosa fece entrò in quella stanza e il prima la prima parola che disse furono pace a voi questa sera il signore parla al tuo cuore e ti infonde pace pace a te è la voce di gesù che tu senti e se senti vibrare il tuo cuore se senti che una mano ti sta toccando sappi che è quella di gesù cristo che vuole redimere la tua vita e ti vuole accogliere nelle sue braccia celesti dio ti benedica dio possa cambiare la tua vita evangelizzazione e missione sono le prerogative di una fede pratica dove noi abbiamo sinceramente dedicato la nostra vita sono stato molto contento di averti potuto dare questo messaggio questa sera questo giorno nella nella tua vita dio ti benedica e prega il signore anzi voglio pregare con te due 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 secondi secchini il tuo capo e chiudi tuoi occhi possiamo pregare insieme caro padre veniamo a te nel nome di gesù questa sera e vogliamo ringraziarti per quello che tu fai per la nostra vita grazie per l'opportunità che tu ci dai di parlare del tuo nome della salvezza che possiamo ottenere in cristo per il compito che ci hai affidato di evangelizzare di portare il vangelo a coloro che sono lontani da te e per questa missione che tu ci hai affidato chi ci ascolta signore ti prego di toccare il suo cuore e di o signore rivelarti potentemente nella loro vita grazie padre per questa opportunità e noi ti benediciamo nel nome di gesù amén grazie per la visione